bello a tutti ragazzi e benvenuti con questo nuovo video io sono Pascu07 e oggi siamo tornati con un nuovissimo video diciamo epico diciamo l'avete potuto aspettate che cacchio ho fatto dobbiamo diciamo che oggi vi farò vedere un video epico su come installare GTIG come vedetelo qua lo potete anche vedere eccolo e oggi vi farò vedere proprio come installarlo sul vostro Android allora prima cosa dobbiamo andare su Google e scrivere GTA 5 APK semplice semplice poi ci aprirà il primo GTA 5 for mobile download e dobbiamo cliccare download for Android il download non ci vuole molto ci vuole talmente poco che nemmeno ve l'immaginate ovviamente io ce l'ho già installato e l'avete potuto vedere quindi io non lo installo un'altra volta una volta che vi sia fatto dovete installarlo cioè diciamo dobbiamo andare sul nostro archivio prima cosa allora 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 e dobbiamo installarlo vedete vedete qua impostazioni attimo sorgenti sconosciute io però ce l'ho già ce l'hai capito raga io ce l'ho già quindi una volta che vi sia fatto dobbiamo semplicemente entrare vedete qua lo gioco è uguale tale e quale il gioco eccoci qua e ci aprirà diciamo questo qui è il gioco che sta caricando e qua però siccome io ho dato ecco e questo qua diciamo è un problema allora diciamo che questo qua è un problema che succede a tutti in qualsiasi download di gta 5 tranne con ppss pp emulator e diciamo che qua bisogna fare una verificazione per diciamo per giocare a gta 5 noi ovviamente clicchiamo ok perché no che è successo aspettate un attimo che è successo non ci ho capito un cavolo boh non ho capito niente pare che il gioco si sia buggato in qualche maniera ma speriamo speriamo che si sia buggato e non me lo dia più non me lo dia più diciamo allora ragazzi quindi dobbiamo di nuovo ritornare cioè devo di nuovo ritornare dobbiamo vedere c'è il filmato in qualche modo si è buggato ragazzi io non lo so se tipo no tipo se era buggato e ci faceva giocare mamma mia il bug più assurdo della storia mamma mia ok allora io ovviamente lo so che cos'è però dobbiamo solo aspettare che c'è se vi carichi la pagina nel caso non ve la carica anzi no ce la sto caricando ed eccoci qua perché sto perché sto cosa qui ci dice installa due app per giocare al gioco aspetta che vi abbasso un po' e allora da quello che ho capito quindi anche voi più o meno l'avete capito dobbiamo installare due giochi due app per giocare al gioco ovviamente queste due app le possiamo scegliere c'è proia bingo castle clash hotspot shield free vpn prox betternet vpn prox e vabbè allora quindi basta che dobbiamo installare due app per giocare al gioco e allora voi installate una di queste due app e automaticamente dovrebbe funzionare se nel caso non dovrebbe funzionare come è successo in tanti non lo so poi casomai se ne arriviamo almeno a vabbè dai facciamo visto che non abbiamo così tantissimi iscritti arriviamo a 5 mi piace ad esempio arriviamo a 5 mi piace like e io vi porterò diciamo come fare proprio come come risolvere questo problema di GTA 5 e se lo risolviamo insieme e mi date qualche consiglio farò anche una serie una volta facciamo due video a settimana un video a settimana e facciamo la serie di GTA se voi mi aiutate a risolvere questo problema ovviamente vedo se posso la settimana prossima io dire di chiudere allora se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi immediatamente lasciate un bel mi piace scrivete qui sotto un commento per darmi maggior sostegno e condividete il video con tutti raga mi raccomando io stop il video e ci vediamo alla prossima ciao